Prima di mostrarvi altro, un attimo. Vi ricordate quando vi ho detto proprio la settimana scorsa che su questo canale non si vince mai niente? Mi dispiace, ho cambiato idea, per quest'unica volta invece si vince davvero qualcosa. Adesso vi spiego come, ma c'è un tante cose di cui devo parlarvi, quindi è stato un attimo difficile strutturare questo video, però ecco, vabbè, vado. Da qualche mese sto lavorando insieme a Elf Games alla realizzazione di questo gioco basato su una mia storia. Il gioco si chiamerà Children of Silent Town e io mi sto occupando della parte grafica. Sono davvero felicissima quindi di potervi fare anche l'annuncio ufficiale e dirvi, sì, sta accadendo, sto lavorando questa cosa, è una figata, sono davvero contenta. Però quando io parlo delle cose che faccio mi viene detto spesso che tendo a sminuirle, ed è vero, ma io riesco a convivere con questa cosa. Mi spiace sminuire un progetto a cui stiamo lavorando in tipo 5 persone. Quindi lascerò agli altri l'onore di parlarvi di questo videogioco. Ciao, mi serve un audio di 3 secondi. Ciao, mi serve un audio. Ciao, mi servono 3 parole. Tedi 3 parole, 3 parole. Grazie. Quindi quello che mi auguro che riuscirete a vedere entro la fine di quest'anno sarà un gioco. Direi misterioso, enigmatico, con una punta di speranza. La grafica sarà... Noni Euclidea, Decadente e Edgar Allan Polly Pocket. Grottesco, un po' distorto, però pulito. Ma soprattutto le musiche. Quelle saranno... Malinconica, evocativa e misteriosa. Ebbene, questo è il gioco, in breve. Lucy è una bambina che vive all'interno di un villaggio, racchiuso da una foresta. Questa foresta è popolata da misteriosi mostri di cui non si conosce l'origine, che però ogni tanto fanno sparire delle persone all'interno del villaggio. Quindi c'è questa atmosfera molto inquietante, molto timorosa. E Lucy è proprio con lei che deciderà di investigare riguardo questo mistero che avvolge il villaggio e capire come mai nessuno all'interno del villaggio abbia mai visto il mondo esterno fino a quel momento. Sarà un punto e clicca e prima di tutto cercheremo di farlo uscire su Steam e su console. E poi vedremo di farlo uscire anche su mobile. O almeno questi sono i progetti, il resto dipenderà da voi se vi piacerà, ma ovviamente da noi se faremo in modo che questo gioco vi piaccia. Prima di parlarvi del contest che abbiamo indetto, però, vi voglio far vedere il trailer. Ci abbiamo lavorato molto ultimamente, per questo lancio siamo veramente gasatissimi, quindi adesso ve lo faccio vedere per intero e bene. Bye! Ciao! Ciao! Ok, che ne pensate? Perché si tratta di un reveal trailer, quindi non è fatto per farvi capire tutto quanto, ma per farvi un assaggino, insomma, per accendere la scintilla di curiosità. Io spero che questa scintilla ci sia stata. Se c'è stata, l'unica cosa che vi chiedo per supportare appunto l'uscita di questo gioco è metterlo nella vostra wishlist di Steam, quindi proprio un click semplicissimo, che per voi magari è semplice, ma per noi è un grande contributo e ci aiuterà senz'altro a far conoscere il gioco. Insomma, è qualcosa a cui teniamo molto, quindi se abbiamo catturato un po' del vostro interesse vi chiederei di farlo. Infine, per quanto riguarda il contest, vorremmo far apparire uno dei vostri disegni all'interno del gioco, quindi come una sorta di, diciamo, easter egg. Quindi l'unica cosa che dovete fare è realizzare appunto un disegno, se riuscite da quelle poche cose che avete visto, più possibile attinente al gioco, e poi inviarlo a questa mail che vedete qua sopra. C'è tempo fino al primo settembre, quindi non c'è bisogno di correre, e alla fine uno tra i disegni presentati verrà scelto a caso e verrà inserito all'interno del gioco, ovviamente dopo avervi scritto, eccetera. Se avete qualsiasi tipo di dubbio riguardo il contest, ci sono maggiori informazioni qui sotto nella descrizione. Spero che partecipiate in tanti e spero soprattutto che questo piccolo annuncio, che fino a questo momento emoziona prevalentemente soltanto me e le altre persone che stanno lavorando a questo gioco, abbia coinvolto e abbia fatto emozionare un minimo anche voi. Tutti i link utili dove si parla del gioco sono qui sotto in descrizione, e in chiusura, vi ricordo di nuovo, se volete supportare il gioco, qui sotto c'è il link per metterlo nella wishlist di Steam. Altrimenti, se volete andare a vedere il trailer in inglese, c'è qua sopra in sovrimpressione, potete cliccare. E magari, perché no, lasciate anche un commento qui sotto al video facendomi sapere cosa vi aspettate da questo gioco, cosa vorreste vedere, perché sicuramente sarà molto interessante e anche molto utile sapere cosa vi aspettate a questo punto. Ciao!